Il lockdown non ferma certamente la vena artistica, infatti Lelle Sarallo, uno dei principali animatori e vocalist di tutto il litorale romano, ha realizzato insieme ad altri compagni d'avventura, chiamiamoli così, un video assolutamente in tema di festività natalizie. Sì, assolutamente, la canzone si intitola proprio Buon Natale, di buon auspicio per tutte le persone che stanno vivendo, hanno vissuto queste feste soprattutto a casa, sperando in un nuovo anno, insieme ad altri artisti. L'idea è stata di Antonio Locascio, che conosciamo come uno dei personaggi di Avanti Un'Altro, anche personaggio del web, fa parte del mini mondo di Avanti Un'Altro. Poi c'è Andrea Paris, che è reduce proprio dalla vittoria di Tu Sì Che Vales, di quest'ultimo anno. E anche Nicola Pesaresi, grande ventrilogo, che ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. C'è anche Lorenzo Del Conte, che è un attore, che ha partecipato in un cameo finale del video. Volevo ricordare questo, vi siete divertiti, avete dato un bel messaggio, anche colorato, appunto in tema natalizio, in tema di Buon Anno anche, però c'è una finalità, vero? La vogliamo ricordare? Assolutamente, infatti la finalità è che tutti i ricavati di questo video, tramite le monetizzazioni delle visualizzazioni, verranno dati al comitato Daniele Chianelli, che è un comitato del centro d'Italia, da sempre vicino ai malati oncologici, soprattutto per i bambini. Buon Natale! A chi vive storie complicate, a chi cerca solo amore, Natale tende al cuor felice, è un mago che cura le ferite. E' Natale, guarda la due pregette, rilaccia, mentre la neve lentamente copre tutta la città.